questo è il regime normale quando volete più rapporto livornese è un verbale unico però per risparmiare che si è staccato dall'alto dove lo vedi che si è staccato dall'alto se ci possiamo permetterlo e poi questo andrei a cercare questo addosso dovrebbe essere più alto quanto arrivi più firmato che si vedeva che arrivava al livello del punto noi si è visto che ci siamo un po' basati sul firmato poi si è pensato che questo è comunque il mare perché da qui un metro sopra questo è già mare se queste colonie vengono su quattro metri allora si è concordato di fare un po' di ricordare un po' la vecchia che ha fatto la divisione del progetto in due pezzi è un po' di sicurezza qui l'hanno è venuta per un po' di ricordare sono diventata te che c'è il come d'accordo va bene e poi si è anche un fratto di sicurezza e poi si è replicata la sezione perché le del consorzio alla fine via il consorzio si perde voti lo so, lo so perché una volta ci tocca, via però di no cosa gli succede? cosa gli sbrava? alla lunga sai, io c'ho la pelle bianche eh, non metti, non metti questo è rosinale grazie 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 qui ci siamo venuti il primo giorno si ingaccia meglio di no grazie Grazie.